I regimi antivirali a due farmaci per la cura dell'HIV, quindi a base di dolutegravir, dolutegravir lamivudina e dolutegravir rilpivirina, sono efficaci, sicuri, hanno una elevata barriera alla resistenza e sono tollerabili. Questo è stato mostrato sia nei trial clinici sia nell'esperienza real life e noi ne parliamo con il professor Ripamonti e con la dottoressa di Gian Benedetto. Gli studi clinici randomizzati hanno dimostrato che la terapia a due farmaci con dolutegravir e 3TC è in grado di dare risultati che sono similari al braccio con tre farmaci. Gli studi Gemini 1 e 2 di fatto hanno ormai prodotto risultati a 144 settimane che sono esattamente tre anni in cui si conferma la non inferiorità rispetto al braccio in triplice e soprattutto al fallimento terapeutico noi non abbiamo mutazioni, che vuol dire che abbiamo una barriera genetica veramente alta. Pensate che su 700 pazienti abbiamo solo un paziente che aveva una difficoltà di aderenza e che ha avuto una singola mutazione. Quindi abbiamo tre anni di studio che confermano l'efficacia di questa strategia. Anche in termini di adverse event, di eventi avversi e di quelli che sono le discontinuazioni legate agli eventi avversi sostanzialmente sono simili, nonostante il braccio come sapete in Gemini avesse il tenofovir e non il taff. Per questo motivo è stato fatto anche il tango che non è uno studio nei naive, ma voi nei naive sapete essere lo stress test di quello che è un regime antivirale perché quando la viremia è elevata è più difficile avere il controllo virologico. Lo studio tango, anche lui ha prodotto i risultati a 144 settimane, questa è una strategia di switch in pazienti che erano già virologicamente soppressi, ma anche in questi casi noi abbiamo una non inferiorità per quanto riguarda la risposta virologica e abbiamo anche la non emergenza di mutazioni. Il profilo di tollerabilità è alto, il che significa che abbiamo dati a lungo termine che confermano che due farmaci sono sufficienti in moltissimi dei nostri pazienti. Il tango, al tango si è aggiunto anche il salsa, lo studio salsa ha voluto semplicemente allargare la tipologia di popolazione, includendo per esempio il 44% di donne anche, che è sempre un dato che abbiamo limitato, e invece confermando a 48 settimane di avere la stessa risposta di un regime a tre farmaci. E infine quello che era stato il primo e in realtà studio a due farmaci, cioè lo SWORD, lo SWORD 1 e 2 con ben 1400 pazienti ha confermato in effetti che ancora 148 settimane persiste la non inferiorità. Lì abbiamo avuto qualche mutazione, questo è vero, ma considerate che su 990 pazienti esposti a quel regime duplice, dopo tre anni abbiamo avuto solo sei mutazioni di resistenza in pazienti che sono falliti. Quindi in realtà i dati ormai sono consistenti per una terapia di lunga durata che sia ugualmente efficace alla terapia triplice. Quindi in realtà lo spazio nella pratica clinica è veramente consistente per fare un switch terapeutico. La duplice terapia per i nostri pazienti in questa fase storica è molto importante. Ci permette l'elemento fondamentale nella gestione della terapia ARV, cioè la terapia personalizzata. La mivudina dolutegra vi hanno dimostrato nei trial clinici la loro efficacia, efficacia che paradossalmente era stata dimostrata in anticipo, soprattutto nei pazienti semplificati, già dalla realtà clinica. Realtà clinica che è arrivata a cinque anni di follow-up, quindi primi casi messi nel 2015-2016 in terapia duplice e che nel follow-up ha dato dei risultati ottimali, come dicevo appunto in precedenza, in quanto il 94-95% dei pazienti che hanno iniziato questa strategia duplice sono ancora attualmente soppressi e diciamo il 90% mantiene lo stesso regime, quindi non ha avuto necessità di interrompere questo regime neanche per motivi di tossicità. Per cui elemento fondamentale per noi diciamo avere una duplice terapia, anche perché tutto il futuro sarà una duplice terapia. Sarà una duplice terapia lungectin, sarà per somministrazione intramuscolare, sarà una terapia diciamo sottocutanea duplice, quindi tutto ciò che verrà sarà duplice e avere adesso una duplice orale è importante anche per preparare i pazienti e appunto dar vita sempre di più ad una terapia personalizzata e non standardizzata.